Quindi non dire cazzate. Quasi tutte le sere a piedi, se giro un'ora, un'ora e mezza a piedi. Ma se vieni su un bicicletta a casa mia, ti do i cani e me li porti fuori. Che io mi rompo le balle. Non ho nessun problema portarli fuori. Comunque qualcuno è andato a concorrenza. E' arrivato qua ho visto che andava via col cosa, ho trovato sulla salita. E' andato giù a Catua. E chi era? E chi può essere? Solo la gay che viene qua e va alla concorrenza. Ah, l'andrea? Yes! Però non piove, vedi che avevo ragione che alle 10 non pioveva più. Io torno a prenderla a moto. Lasciala dove è la moto. Tanto dopo devo andare a prenderla uguale. Perché devo fare un giro. Vai Sringuelli che vanno. Perché dopo devo fare un giro lo stesso. Piedi non mi piace. Io a piedi vado a partire? No. A piedi, in bicicletta, in moto, in qualunque situazione. Troppo pericoloso a piedi. No. Perché è pericoloso? Eh sì eh. Metti che scivoli, ti cadi e ti picchi. Perché che scivoli in moto? No, in moto non scivoli. Un giro. Un giro. Un giro. Un giro. Un giro con la moto dell'andrea. Che così va oderli. Tenemos un giro con luna. Grazie a tutti.